Allora, suppongo che questo sarà il mio primo video e non so ancora cosa ne farò, non so se verrà pubblicato, forse lo terrò per me, semplicemente per ricordarmi quanto sia doloroso lottare. Ho deciso di riprendere tutto ciò che sarà la mia vita e il mio percorso di rinascita, perché così viene chiamato da una malattia terribile, purtroppo, che è l'anoressia. Quindi porterò con me questa meravigliosa telecamera prestata da mia sorella e documenterò tutti i miei passi avanti e soprattutto il mio ricovero. Quindi niente, telecamera ti porto con me. Ah, e il mio nome è Gemma. Allora, dato che ho un peso a rischio di ricovero in ospedale, prima che mi accettino a Villa dei Pini, che è la struttura dove andrò a Firenze, devo stare il più ferma possibile e possibilmente mangiare. Quindi è il mio secondo giorno senza iperattività e io mi vedo veramente enorme. Cioè, sto impazzendo. Allora, oggi è una giornata un po' così, come tutte le domeniche. In più è il terzo giorno senza iperattività e io mi sento uno schifo. Aspetta che... E lui è il leone, il mio amore che mi salva sempre da questi pomeriggi di noia. Comunque, vi presento due dei miei acerrimi nemici. che sono uno e due. No, ok, non ha messo a fuoco, però sono due cose che odio. Non riesco a prenderli. Cioè, vado nei matti solo a pensare a tutte le calorie che hanno e non ce la faccio. Quindi, niente, rimarranno chiusi, sigillati, come sono adesso. Scusate. Allora, mia mamma e mia sorella sono andate in palestra e io mi sto annoiando tantissimo. Non so come fare ad estrarmi da tutti questi bruttissimi pensieri. in più, ieri sono arrivati i risultati delle analisi del sangue e ho tutti i valori sballati. Cioè, praticamente, globuli rossi, globuli bianchi, sono anemica e io non me ne intendo di queste cose, quindi non so dirvi quali altri valori siano fuori dal range, però ne ho diversi. Quindi, niente, sono chiusa in casa aspettando la telefonata da Villa dei Pini e spero che venga presto perché non ne posso più. dopo due giorni senza iperattività oggi era il terzo non ce l'ho fatta e dopo pranzo ho avuto una crisi per cui ho camminato ben non metto a fuoco comunque quattro ore e niente, ora sto meglio però ho paura perché domani avrò la nutrizionista e spero che il peso non sia sceso né sia salito. Allora, sono le 9 e 40 e io sono appena uscita dalla nutrizionista il peso è rimasto stabile grazie al cielo e non vedo l'ora di arrivare a casa perché fa un freddo assurdo e niente questo è il mio lunedì allora, ieri sera ho avuto una crisi dopo cena per i sensi di colpa e questo è stato il risultato ho camminato tutta la sera bene, ma non benissimo allora, questo pomeriggio avrò la terapia familiare e ci sono ben due problemi il primo è che non ho voglia di farla come quasi sempre il secondo è che è alle 6 orario in cui io di solito faccio merenda quindi questo mi scombussola tutti i piani e per me cambiare un orario di un pasto diventa un problema enorme quindi sono già nel panico perché dovrò farla prima e la cosa mi fa sentire alquanto in colpa e niente oggi va così allora, finalmente mi hanno chiamato da Villa dei Pini in realtà stamattina però ero in delle condizioni pietose e non potevo assolutamente riprendermi comunque mi hanno chiamato e mi hanno fissato il mio ingresso che sarà martedì prossimo oggi è il 14 gennaio almeno su questo ci siamo e sono contentissima anche se un po' agitata perché comunque riniziare tutto da capo ho paura di non trovarmi bene con le ragazze o con i ragazzi e non lo so sono un po' stressata però non vedo l'ora di andare allora, come avrete notato il setting è sempre questo in realtà oggi avrei voluto farvi un video quando sono uscita dalla psichiatra ma faceva talmente tanto freddo che avevo le mani congelate infilate dentro le maniche del giubbotto quindi non mi sembrava il caso e niente oggi sono stata dalla psichiatra a fare l'ultima visita prima del ricovero oggi è venerdì e mancano esattamente tre giorni al ricovero e io mi sto abbastanza cagando sotto cioè vi dico la verità me la sto facendo proprio sotto e mi aspettano delle giornate abbastanza piene il che mi preoccupa perché risento tanto della stanchezza fisica oltre che psicologica però anche fisica e è giusto ammetterlo e quindi sono un po' preoccupata ecco domani dovrò fare tantissime cose poi dovrò iniziare a fare le valigie e salutare tutti i miei amici parenti quindi in realtà io vorrei solo stare a casa da sola non fare niente però mi tocca e anche oggi direi che a iperattività sono messa abbastanza bene molto bene io sto per uscire con i miei due migliori amici per salutarci prima del ricovero anche se ovviamente mi verranno a trovare quindi questa è la mia domenica sabato non so nemmeno che giorno è questo è il risultato di una cena fatta a base di verdure e tante verdure quindi tantissimi sensi di colpa e tantissima iperattività non so nemmeno che